Si chiama Le Mappe del Gusto ed è una guida per scoprire meglio l'isola d'Elba, l'isola del Giglio e l'isola di Capraia tre delle sette isole toscane, quelle che hanno una forte comunità indigena, dove le tradizioni resistono. La guida si occupa di cucina, dei piatti tipici, delle aziende, dei ristoranti e di enogastronomia sostenibile. Pubblicazioni come queste ci aiutano innanzitutto a fissare la memoria, a non perdere un patrimonio inestimabile di narrazione, di tradizioni, di storie che riempiono la nostra Toscana e per una singolarità della propria storia queste isole hanno tradizioni in parte completamente diverse dal resto della Toscana. Il libro è stato presentato in regione toscana, a scriverlo è stato l'elbano d'adozione e studioso di antropologia Walter Giuliani. Per il gusto sono così, un percorso consigliato a chi si approccia a queste isole con lo sguardo del visitatore, non del turista che va di corsa, che va di fretta. Per cui produttori, ristoranti, botteghe che utilizzano prodotti del luogo o ricette, enogastronomia legata al territorio. La guida nasce con il contributo del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano del Comune di Capraia Isola, con il patrocinio di Federparchi e di vetrina toscana di Feist, la Rota dei Fenici, itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Grazie.